E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo video e come ogni mese è arrivato il momento di spacchettare il fanbox questo qui è ovviamente quello del mese di agosto per chi non sapesse che cos'è il fanbox, è il solito box nerd pieno di figari appunto solo che è tutto italiano e se volete altre informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione la loro pagina facebook, il loro sito vi ricordo che questo qui non è in abbonamento, lo comprate una volta sola se vi piace quello che c'è dentro lo prendete, se non vi piace non lo prendete quindi non c'è nessun abbonamento fisso ogni mese detto questo non perderei altro tempo, prendiamo il nostro fedelissimo minato e andiamo a rompere qui il sigillo, eccoci qua tra l'altro carinissimo sigillo con Gandalf pixeloso che dice tu non puoi passare allora, apriamo un po' ovviamente non rivelo tutto il contenuto ma lo vedo solo io allora, 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 questo qui è a tema trasformazione se non ricordo male e allora cominciamo con questo, è praticamente un Megablox di Casey Jones direttamente dal film Teenage Mutant Ninja Turtle Out of the Shadow e non è l'unico perché è accompagnato anche da quello di Donatello eccoli qua nei loro pacchetti molto molto carini ma sì dai, vediamo di che pasta sono fatti apriamo un po' la confezione sono già montati? Assolutamente no ecco qua Donatello in mille e mille mila pezzi ecco qua, penso sarà la stessa cosa per Casey Jones però io in un batter d'occhio ve lo farò vedere montato bam ed eccoli qui due in uno sia Casey Jones che Donatello montati devo dire che sono veramente molto molto carini se riesco a trovare in giro magari completerò anche le altre tartarue comunque continuando ancora qui abbiamo un bel bicchierozzo di vetro di Hulk naturalmente a tema trasformazione chi meglio di lui si trasforma di Bruce Banner ecco qua il bicchiere veramente veramente figo questo particolare colore mi fa pensare che possa brillare al buio ah no, qui dice praticamente che versando un liquido freddo cambia colore quindi diventerà più verde come è qui veramente una figata continuando ancora abbiamo questo bel portachiavi dei Transformers che tra l'altro non è un semplice portachiavi ma è anche un'apribottiglia beh, devo dire altra figata l'apribottiglia può sempre servire in qualsiasi momento per il resto abbiamo questa matita a tema Pokémon ecco qui c'è Pikachu e questi qui non me li ricordo i nomi nuovi ragazzi qui c'è una bella gomma a forma di sfera Poké ma non finisce qui purtroppo non vedo la maglietta ma c'è un'altra figata che credo di aver intuito cosa sia qui abbiamo il numero uno di Champions eccoli qui questa nuova squadra di eroi con ciclope giovane questo nuovo Hulk eccetera eccetera veramente una figata anche questo sono molto curioso di leggerlo ma veniamo all'ultimo pezzo che se non ho capito male da quello che si può intuire qui e non ho capito per niente male praticamente un asciugamano, un telo di Spider-Man e io adoro queste cose ragazzi eccoci qua vediamo un po' vediamo un po' ah guardate qua che figata spero si riesca a vedere tra l'altro è uno Spider-Man molto simile a quello della serie animata di quando ero piccolo io non so se hanno fatto una nuova serie animata comunque il design eccolo qua ragazzi una figata astronomica bene questo era tutto il contenuto di oggi io come al solito sono soddisfattissimo soprattutto per quest'ultima chicca magari sono in tempo ancora per usarlo un paio di giorni al mare comunque ripeto tutte le informazioni su questo box le trovate qui sotto in descrizione lasciate il like come al solito al video commentate qui sotto con tutti i vostri pareri fatemi sapere se vi è piaciuto il contenuto e come al solito la condivisione è sempre gradita noi ci vediamo alla prossima ciao da Hara e collezionate sempre ciao